ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono francesco e io daniele se sentite le nostre voci ma non ci vedete basta scorrere con il mouse o direttamente con il telefonino spostate l'inquadratura perché questo è un video 360 gradi oggi andremo a fare su questo intanto daniele sta cercando di mettere in funzione una sorta di radio andremo a fare questo sarà un video molto particolare parleremo di una cosa molto importante seguitemi grazie 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 guardate grazie 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 la mezzo allora questo video vediamo se si riattiva perfetto questo video come dicevo è un video molto particolare dove noi andremo a prendere una bottiglia d'acqua un bicchiere e un altro bicchiere e affettato perché si non abbiamo fatto il tempo a mangiare quindi questo video faremo un video dove potete anche girare la telecamera e vedere cosa sta facendo Daniele sì quindi questo video è un video dove noi andremo a preparare una cosa al volo per mangiare perché devo mangiare perché non abbiamo fatto in tempo perché dobbiamo continuare a lavorare sulla mazza che potete vedere alla vostra destra se state vedendo me e ancora ad altri progetti mi raccomando preparo io i panini si si che fai lo mani su vedi se via ma che pensa la fotocamera è acceso il telefono ma non si aspetta hai toccato una presa di ricarica sopra la plastica è la plastica il vetro nel vetro e la carta è la carta non c'è se potete fare i soldi veramente poi vedrà qui abbiamo la allora allora aspetta oh si è acceso qui abbiamo niente meno che un minimo d'ordine questa cucina Daniele mortadella e spianata romana un attimo basta questo va qua allora prendiamo il nostro pane pane rigorosamente fettine piccole e andiamo a fare andiamo a fare dei semplici art attacca non manco una rosetta hai preso oh non c'era c'era solo questo non c'è stava a che vado da me oh come l'ha tagliato caccetta cazzo e questo c'era si ho capito la misura prendi del panno carta lo giri intorno dai forza ehi addios ciao cannavacciuolo grande amico eh beh perché c'è una macina fuori tutti i giorni tutte le sere da cannavacciuolo ah cioè io scusa dove metter pane mi va ridere vai no tranquillo eh tu mangia lo prendo io la carta e sarò là aspettare che ne so com'è Paolo non è che devi aspettare un po' con le eriche che ne so molto paurino con la lanza su mangia ma secco è forza tranquillo la facciamo si si ho capito tutto insomma ma ragazzo no non possiamo adesso non possiamo ma perché c'ho messo l'alquato l'ho lasciata accesa tranquillo guarda quant'è altro lo spessore di queste fette fa tagliata per maciere cazzo allora mettiamo a sfidarla ho pagato 15 euro di pane però che fai su e giù con quella è buono non si parla con la bocca piena mi ricordi è anche un merito che fanno eh sono in Italia con te che ce l'ho nei modi che vuoi buono ehi passi il panno carta comunque questo è il laboratorio dove noi andiamo a fare qualche esperimento andiamo a sistemare facciamo la macchina se riesco metto tutto sulla macchina ecco così potete guardare anche la macchina come sta come stiamo procedendo ai nostri lavori non si riuscivano a togliere i supporti in gomma della marmitta quindi ho preso la sega elettrica e l'ho tagliata tanta macchina la tua non si riuscivano a togliere le altre cose dobbiamo notare e devo far sapere una cosa noi ci stiamo spuntando la macchina però non si sa che hai molta perché ormai punto proprio ragazzi in diretta vedete sempre delle belle corde oltre che c'è tipo me ne avevo detto qualcosa sto pane non lo so scopa ma quando è pronta ma quando è pronta quando è pronta la macchina è stata scandente dobbiamo metterla qui quando siamo in giro e far vedere altre sessate che ottimo ciò faremo loro il supporto da un specchietto e anche dentro del siano in uno specchietto un po' ah si vi da la belada però così eh mmm buonassi qua mi sto mettendo prima mi sto mettendo davanti incaestando nella bocchettona mi sto mettendo la bocchettona mi sto mettendo la bocchettona spero di riuscire a montare senza problemi se no questo video non uscirà e noi ci vediamo al prossimo video ciao